Allora, quelli dell'Accademia della Crusca sono dei tipi tossi, insomma, ti sei allenato? Sì, sì, abbastanza, adesso non so se riuscirò a passare, però c'è proprio. Ecco, farai un... come ci si allena per le Olimpiadi d'Italiano? Ebbè, si studia la grammatica, poi si fanno esorcizi sulle vecchie prove. Ti senti pronto? Sì, mi sento pronto, dopo si vedrà. C'hai un bel peso sulle spalle, insomma, sei conscio di questo? Sì, sì, lo so. Bocca al lupo. Grazie, mi crepi. Un ragazzo dell'Olivetti partecipa alle Olimpiadi d'Italiano che si tengono a Roma il 18, quindi venerdì prossimo. Certo, ecco, è qua il nostro eroe, il nostro Alex, che appunto è riuscito a sbaragliare tantissimi studenti, perché quest'anno i partecipanti sono stati oltre 43 mila in tutta Italia, quindi lui si è qualificato, ha superato la fase provinciale, la fase regionale, e adesso rappresenta le marche per gli istituti professionali, sono solo tre gli studenti di tutte le marche, tra l'altro lui è unico per gli istituti professionali, che presenterà e terrà alto quindi il nome del nostro istituto a Roma, ecco, all'Accademia della Crusca. Per noi è già un grandissimo risultato. È chiaro che saremo strafelici se poi, no, tenesse anche l'ulteriore passo, però superasse anche l'ulteriore passo, però ecco, per noi già veramente è un ottimo risultato. Ecco, è un ragazzo che, posso dirlo questo Alex, che ha confessato che da sempre la lingua italiana gli è piaciuta, già dalla scuola elementare, la maestra, no, diciamo, ha sempre capito, insomma, questa sua passione, quindi l'ha coltivato fin da allora. Ed ecco i risultati. Ed ecco i risultati.